5, 4, 3, 2, 1, vai a terra a 10 pressioni, fate bene, non le voglio vedere. 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 13, 14, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 19, 20, 21. 3, 2, 1, vai a terra, spari in alto, richiami, spari velocemente, in alto puoi andare abbastanza piano, davanti, invece, boom, 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 ok? 3, 2, 1, via, bene a te, via, 1, 2, 3, buono, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio palla, via, ora è veloce sia in 1 su, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, appoggio, altre 5 con quella pesa, dai, 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 non gli diamo tre, guarda, 1, via, veloce, lento su, veloce, lento su, Veloce, lento su, veloce, lento su, via, 5, 4, spingi bene, bravo, aderente, bravo, bello testo deve essere, buono, Fuori bene il petto, fuori bene il petto, guarda così, fuori bene il petto, Gravissimo, l'ultimo due, l'ultimo due, l'ultimo due, buono questo, uno e l'ultimo, buono e appoggio e mi lascio, buono, bastardo questo, grazie. Stiamo le gambe, dammi le braccia dietro, a tre, poi l'aria, le spalle le hai lasciate andare, uno, due, tre. Bravo, questo, voglio vedere le scapole che si uniscono perché vengono da lasciare andare le spalle. Uno, due, tre, scendo. Buono, ora ti metti così, questo e questo, qui, la facciamo magari così da capire. Dammi questo braccia, io ora ti tiro tutto e ti lascio andare vuoti. Se io facessi perdere tutti i giorni, poi, dai, sei di buono, no, uno, due, tre. E scendo. Guarda la parte di là. Guarda la parte di là, di nuovo. Guarda la parte di là, di nuovo. Dammi questo braccio, è bellissimo. Guarda questa gamba. Ohhhhh. Bravo, sì. Guarda la parte di là, è super hermana. Guarda la parte di là, è un'angeli. Sì.